ed eccoci qui arrivate al finale dopo quasi quattro ore di lavoro vero dino guardate qui la bellezza di questa extension questo è l'effetto finale lo vedete però sotto c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto per allungare ok lo vedete tutte queste micro ring sono stati messi e questi cappelli rimarranno così per i prossimi 4-5 minuti fantastico quindi sarò sempre in ordine però dove qui al negozio di dino parrucchiere vi ricordo che siamo all'iperalti nel cinta dell'iperal però esiste anche il negozio in centro nel centro storico di lecco vi aspetto tutte a farvi belle con le nuove extension grazie grazie grazie